Un saluto come sempre ai tre spettatori di Pianeta Basket TV, ma naturalmente anche delle nuove televisioni che ci promozionano sul digitale terrestre e che ci permettono di arrivare in 5-6 regioni del centro-sud Italia. Questa settimana c'è una novità anche per quanto riguarda un canale nazionale che ci ripeterà in tutto il territorio nazionale usando naturalmente la Smart TV, quindi benvenuto anche al nuovo canale nazionale, siamo ormai quindi a livello nazionale con Pianeta Basket TV online, arriviamo in tutto il mondo, ma naturalmente anche sul digitale terrestre ci potrete seguire in tutta Italia. Appuntamento numero 20, con chiacchiere da basket, il rotocalco settimana di informazione sportiva di Pianeta Basket TV, dedicato in particolare, lo sapete, al basket campano, ma più in generale al basket nazionale. Puntata importante, bella, piena di tematiche, piena anche di ospiti, come sempre facciamo ormai dopo anche in questa quinta edizione della stessa chiacchiere da basket. Vado a salutare subito in redazione però immediatamente Andrea Esposito. Ciao Andrea, buona serata. Ciao Paolo, bentornati a tutti. Vado a presentare gli ospiti. Ho praticamente l'onore di presentare qui con noi un carissimo amico, migliore allenatore 2022-2023 del basket italiano di Serie A, un caro amico, lo conosco da tantissimo tempo, un campano d'occa che si è fatto onore anche al di là della campania e lo vado immediatamente a salutare. Lo ringrazio per essere con noi. Marco Ramondino. Ciao Marco, buonasera. Ciao Paolo, grazie dell'invito. Saluti a tutti. E con noi anche un altro carissimo collega di Brescia Oggi, della Gazzetta dello Sport, che ci presenterà in particolare anche la Coppa Italia e quanto succederà tra Brescia e Napoli, Alberto Banzola. Ciao Alberto, buonasera. Buonasera direttore, un saluto a te e a tutti gli altri. Ringrazio per essere ancora qui con noi. Allora Andrea, andiamo subito però col campionato, poi parliamo della Coppa Italia che tiene banco questa settimana, da mercoledì sera in poi e fino a domenica, una Kermess a cui gli italiani ormai sono affezionati, del resto il secondo trofeo più prestigioso del basket di Serie A al maschile. Andiamo però prima col campionato, campionato che ha espresso la sua ventesima giornata, che si è appena finita di giocare. Andiamo a guardare i risultati e classifica. A te Andrea. Si fa lo ventesimo turno che ha visto Tortona vincere in casa nettamente su una sassere ancora indietro di condizione e di convinzione tecnica, 79-62. La Reier-Venezia ha la meglio su una sfortunata pistoia che deve ancora valutare l'infortuno di Varnados, 96-69. Milano in casa ha la meglio largamente su Brindici, 69-55. Al fil di Serena, Treviso e Spugna Trento, 82-85. Napoli non riesce il blitz esterno a Cremona, la Vanoli si impone 90-83, così come fa la Virtus Bologna su Scafati, 94-67. Brescia continua il suo momento di forma straordinario battendo Reggio Emilia in formato trasferta, 86-63. E poi Varese ha la meglio su Pesaro, 91-80. La classifica, Paolo, si sta un po' delineando con le prime quattro che continuano ad avere un ruolino di marcia costante, molto positivo. E poi nella zona, diciamo, il secondo lotto playoff vede Reggio Emilia al quinto posto, Napoli sesto, Tortona sta risalendo molto bene e Scafati chiudere le prime otto posizioni. In coda c'è una grande novità perché Treviso per la prima volta in questa stagione è momentaneamente salva, scavalcando appunto Pesaro in virtù della sconfitta della VL. Sempre all'ultimo posto Brindisi con solo gli otto punti. Bene, considerazioni di carattere generale. Le prime quattro si stanno incominciando a staccare. Grande lotta per entrare nei playoff perché leggo e vedo dal quinto al decimo posto una gran bagarre e tantissime squadre che possono conquistare la stessa post-season raggruppata in un fazzoletto di punti. Poi la zona bassa della classifica con Treviso che ha fatto un bel passo in avanti e con Pesaro che continua ad avere grandi difficoltà, Brindisi continua a lottare ma è pur sempre ultima. Considerazioni di carattere generale su questo campionato. Marco, che campionato è stato queste venti giornate, questi tre grupponi di squadre? Molto interessante la lotta dal quinto al decimo posto per entrare nei playoff. Ma guarda, credo che il campionato sia veramente ancora molto lungo. Credo che la storia poi dice che il campionato italiano è molto equilibrato al di là della classifica in sé, intendo sulla singola partita veramente credo che negli ultimi anni ogni settimana sia potuto succedere e possa succedere di tutto. Perché forse la nostra è la nazione il campionato dove sulla singola partita c'è la maggiore enfasi. Sicuramente alle due squadre di Eurolega, Virtus e Milano con percorsi diversi, con continuità diversa, comunque sono squadre che credo sia lecita aspettarsi che faranno il loro percorso di alto livello, perlomeno ci arrivino. Venezia e Brescia hanno trovato molto presto i loro equilibri. Brescia poi in particolare è una squadra che ha allungato la sua squadra, non tanto in termini di numeri ma in termini di competizione nelle singole posizioni. È una squadra veramente che ha giocatori intercambiabili, con il vantaggio tra virgolette, perché poi bisogna essere bravi a sfruttare. Però è un vantaggio tra virgolette perché diventa un vantaggio nel momento in cui tu trovi i tuoi equilibri e la squadra sta bene insieme durante la settimana ad allenarsi. Se non fosse così sarebbe un po' dura tenere insieme un gruppo con tanti giocatori così talentuosi con un solo impegno a settimana. Quindi è un po' una faciloneria dire che così a priori è un vantaggio non fare le coppe. È chiaro che una volta che una squadra che è stata costruita molto bene e ha azzeccato tutte le sue mosse e hanno trovato i loro equilibri, a quel punto lì avere una settimana per prepararsi al singolo impegno diventa un valore aggiunto. Però non è una cosa a priori. Per il resto credo che sia tutto molto lungo. Negli anni passati in fondo e a metà classifica è successo un po' di tutto nelle ultime giornate post diciamo dalla Coppa Italia in poi. Credo che la classifica la si debba guardare ecco dalla Coppa Italia in poi. E quest'anno c'è anche la pausa per le squadre di Eurolega quindi magari per qualcuno c'è anche la possibilità di ricaricare. Giusto per qualcuno perché poi mi sa che come dire Melli, Ricci, Paiola questi andranno tutti in nazionale. Scenghelia. Sì andranno tutti in nazionale. Le tossine arriveranno poi dagli impegni con la nazionale perché Turchia e Ungheria sono due belle squadre quindi c'è un bel impegno. Assolutamente. Alberto a te brevemente un minuto per delineare un po' le cose come stanno in campionato. Direi che sono molto d'accordo con quello che ha detto Marco. Diciamo che si delinea veramente un gruppone delle prime quattro che stanno cercando di staccarsi e di andarsene via. Poi il resto della lotta è veramente apertissimo perché se lasciamo perdere le ultime tre tutte le altre sono squadre in bagarre tra salvezza e possibilità playoff. Molto dipende anche dalla forma fisica al di là dei vari problemi che le varie società stanno attroversando. L'infortunio di Varnado a Pistoia è una bella tegola. Per la seconda volta Pistoia deve fare a meno di Varnado. Non so se questa volta reggerà l'urto dell'assenza del giocatore. Poi Reggio Emilia si è rinforzata. Ha preso questo nuovo giocatore. Notizia di oggi dopo Herbie che praticamente non rientrava più nel progetto. Quindi anche Reggio Emilia è metamorfosi in questo momento. Non poteva essere altrimenti perché la Reggio Emilia ha visto ieri giocare in campo a Brescia. Non può deambulare se vuole competere per arrivare playoff. Assolutamente. Vediamo insomma se poi ci sarà anche qualche ritocchino nella lunga pausa per le nazionali. Vediamo che cosa succederà da qualche altra parte. Allora Andrea parliamo brevemente di Napoli. Tre sconfitte consecutive. La terza è arrivata in quel di Cremona. Ci racconti un po' cosa è successo. Poi con i nostri ospiti esaminiamo il momento di Napoli in prospettiva anche naturalmente di questa Coppa Italia di cui parleremo poi in una parentesi particolare. Sì Paolo diciamo volendo estremizzare un po' il concetto Napoli ha giocato da Napoli un solo quarto. Soltanto che a pallacanestro ci sono quattro tempi e se ne giochi bene solo uno poi dopo è difficile portare a casa la posta in palio. Napoli non è riuscita a tenere costante costantemente la la spina attaccata. Tante disattenzioni difensive rotazioni difensive che sono state un po' anche il vantaggio latente della Napoli che abbiamo imparato a conoscere sino a prima di Natale. Adesso c'è qualcosa che non va c'è qualche qualche momento in cui Napoli non riesce a difendere come vorrebbe. Questo al giorno d'oggi si tramuta in difficoltà offensive perché Napoli continua a tirare tanto da tre però non riesce ad essere precisa come come lo era qualche settimana fa. Fermo restando che comunque ci può essere non lo diranno mai ma un po' di 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 testa diciamo portata un po' più in avanti perché l'obiettivo della Supercoppa era un obiettivo importante. Napoli non era costruita per rientrare in quell'obiettivo si è trovata ballando è riuscito a staccare il pass. Adesso c'è da c'è da però tornare a concentrati perché soprattutto la partita di ieri il secondo e il quarto quarto hanno lasciato un po' a desiderare perché non è la Napoli che abbiamo visto in questa prima metà abbondante di stagione. Sì soprattutto la Napoli che difende non più tanto bene che tiracchia male da tre era capitato con Bologna è capitato con Brescia è capitato nuovamente anche con Cremona. Di conseguenza una tematica una costante nel rendimento della squadra che sembra anche un po' fisicamente stanca e provata. La panchina continua a non dar quel che si cerca minutaggi importanti di riposo ai titolari e quindi questo insomma fa un po' il paio con una situazione sicuramente non delle migliori. Napoli arriva a questo quarto di finale di Coppa Italia con Brescia sicuramente non nelle migliori condizioni. Fa questi andamenti a fisarmonica negli ultimi due mesi, quattro vittorie, quattro sconfitte, di nuovo tre vittorie e poi quattro sconfitte. Insomma quest'andamento altalenante dimostra che comunque c'è qualche difficoltà e qualcosa ancora da sistemare. Adesso ho detto anche Milici c'è questo per carità. Marco il tuo giudizio su Napoli poi passiamo a Alberto e poi passiamo brevemente alla parentesi Coppa Italia perché poi per Scafati faremo un discorso a parte in quanto Scafati non partecipa alla Coppa Italia e possiamo fare un discorso a parte per Scafati. Sarò più breve perché mi sono aggiungato troppo. Napoli è un'altra squadra che ha trovato presto i suoi equilibri, sono stati molto bravi nonostante la squadra sia stata completata abbastanza tardi giustamente perché non bisogna farsi prendere dal panico e bisogna scegliere i giocatori che piacciono e sono funzionali e vanno bene perché il mondo è pieno di giocatori e meglio iniziare dopo con le persone giuste che fare delle scelte dettate da tempisti che insomma che non impone nessuno. Credo che appunto perché ha trovato presto questi equilibri poi sia normale avere dei periodi un po' di di flessione in cui come dire trovi la tua forma e devi poi come dire combattere e cercare di uscire da quella forma che hai trovato per cercare forma non in senso di forma fisica nel senso di di equilibri cercare di uscire da quegli equilibri che hai trovato per migliorare e non è facile. Ehm però è una squadra che ha una sua identità gioca soprattutto dal punto di vista difensivo una pallacanestro diversa dalle altre squadre e credo che questo sia molto importante oggi avere una una propria identità ehm non come come dire non come moda o come volersi diversificare dagli altri ma appunto avere una un'identità riconoscersi in quel modo di giocare credo che questo possa essere un punto un punto di forza e poi bisogna anche come dire essere ritornare da dove siamo partiti che questo è un campionato super competitivo e credo che e credo che Napoli finora abbia fatto bene poi poi è chiaro che che coach Milicic in primis poi quando le cose vanno bene non non si voglia accontentare immagino come tutti gli allenatori alla competizione qui è feroce e per dire anche Reggio Emili che è una squadra che ha fatto benissimo però farà dei cambiamenti perché evidentemente non erano contenti di 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 quello che stavano facendo recentemente assolutamente Alberto tu Napoli l'hai vista la settimana scorsa proprio a Napoli da eh con la tua Brescia insomma che impressioni hai avuto e soprattutto queste tre sconfitte dopo quattro vittorie dopo altre quattro sconfitte che cosa ti dicono di questa di questo di questo di questo rostere di questa squadra diciamo che questa Napoli non digerisce bene le squadre lombarde visto le ultime due partite eh mi ha colpito molto quando sono andato giù pensavo di trovare una squadra un po' più battagliera è stata una squadra che alla prima vera spallata si è un po' flusciata eh ha provato nella nella ripresa a rimettersi in pista aggredendo giocando tanto di fisico eh pressando a tutto campo dall'inizio del terzo quarto riuscita a rimettere in piedi una parola grossa tornare da meno venticinque a meno quindici ma non hai mai riuscito a dare l'impressione di poter riuscire a fare qualcosa di più quando tu parli di forma fisica di stanchezza io credo che quando si gioca in sei eh dopo un po' dopo un po' qualche problemina possa venire fuori perché come dice giustamente Marco questo è un campionato altamente competitivo poi è chiaro Napoli non ha bisogno di avere una rotazione a nove barra dieci perché non vuol competere per lo scudetto i playoff sono pienamente alla portata c'è un infortunato tra virgolette eccellente e ci sono tante cose da tenere in considerazione però io penso anche che ehm e poi parleremo della Coppa Italia giovedì sera vedremo una partita totalmente diversa rispetto a quella di sabato scorso giocata a palla barbuto assolutamente allora introduciamo il capitolo Coppa Italia Andrea ci presenti il tabellone gli eventuali incroci di semifinale e tutto poi ne parliamo con i nostri due ospiti perché è la seconda Kermess eh del del basket italiano di vertice di conseguenza va presentata debitamente e poi c'è anche una squadra campana che vi partecipa per carità esatto Paolo come dicevi tu in l'apertura si inizia mercoledì con due partite molto interessanti alle ore 18 c'è Milano Trento e poi in serata alle ore 20 e 45 Reier Venezia Pistoglia con un punto interrogativo legato alla spalla di Parnato uscito diciamo un po' dolorante per usare un eufemismo difficilmente riuscirà a recuperare per per mercoledì andiamo al secondo giorno alle ore 18 sempre Virtus Bologna Reggio Emilia partita molto interessante e poi Brescia Napoli ovviamente chissà se Reggio Emilia giocando in campo neutro possa evitare questi blackout che ha praticamente ormai in maniera costante quando gioca lontano da proprio parche assolutamente questo derby Emiliano Romagnolo particolarmente interessante ma noi ci concentriamo soprattutto su Brescia e Napoli però da Marco un giudizio di carattere generale su questi quarti di finale sulle squadre che potenzialmente secondo te possono arrivare sino in fondo so che tu hai un'idea ben precisa come tutti eh credo no guarda la mia idea è che non per codardia ma è veramente inutile fare i pronostici la Coppa Italia la Coppa Italia credo che chiunque ci entri eh come dire un po' sognando un po' credendoci speri di 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 fare il colpo grosso e quindi non andare lì semplicemente per per fare la vacanza a Torino che magari ne vai a fare altrove e quindi innanzitutto credo che come dire con più o meno convinzione tutti ci entrino con l'idea di fare di fare il colpo e ripeto sulla singola partita può succedere di tutto l'anno scorso in Italia ha vinto Brescia che entrando nella competizione non è né favorita né in forma ehm e e in Spagna ha vinto Malaga per dire l'anno scorso quindi non non le squadre di Eurorega non non Real Madrid non Barcellona non Valencia non Basconia quindi ehm può succedere di tutto e non conta neanche il modo in cui ci arrivi perché il il contesto il format ehm è una cosa a parte sì il fatto che si giochi in campo neutro il fatto che sono partite singoli il fatto che che se perdi da sfavorito non succede niente quindi veramente per me è veramente difficile fare ehm fare pronostici e e avere particolari aspettative se non quella di di godersi come dire lo spettacolo perché eh eh comunque ripeto non per dire sempre la stessa cosa ma la competizione che c'è nel nostro campionato sulle singole giornate si 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 trasferisce anche poi ancora di più in una manifestazione come la Coppa Italia. Assolutamente Andrea allora gli incroci poi eventualmente in semifinale sono appunto quelli già predeterminati insomma eh si segue si segue si segue il tabellone poi ovviamente con le nostre grafiche faremo il punto della situazione. Tornando a quello che diceva Marco c'è questa esatto esatto proprio per preparare la domanda ad Alberto volevo citare il discorso che ha fatto Marco prima Alberto Brescia ovviamente sta facendo una stagione molto importante stagione che dal mio punto di vista è nata proprio dal da quella vittoria dell'anno passato che poi non ha portato il playoff però ha cementificato il gruppo. È stata un'estate molto importante a Brescia fatta di decisioni importanti. Magro sembrava andare via poi è rimasto e ha costruito questa squadra che adesso è prima in classifica. C'è un po' quella volontà di bissare con un'altra convinzione la Coppa Italia per Brescia? E poi aggiungo un'altra domanda anche ad Alberto come l'ho fatta anche a Marco. Come vedi questa Coppa Italia? Marco giustamente io sono ovviamente d'accordo dice ogni partita va giocata quindi ogni squadra secondo me ha potenzialità per poter fare bene. Poi soprattutto quelle meno favorite probabilmente sono più libere mentalmente e giocheranno in maniera diversa rispetto a quelle che invece devono magari arrivare sino in fondo obbligatoriamente come per esempio faccio un esempio Milano e Bologna. Allora Alberto Allora partiamo da quello che ha chiesto Andrea poi passo a quello che ha chiesto Paolo. Per quanto riguarda quello che ha chiesto Andrea ieri coach Alessandro Magro è stato molto chiaro finita la partita in sala stampa perché ovviamente l'abbiamo incalzato sulla Coppa Italia. Lui dice che in questo momento Brescia gioca ed esprime una bella pallacanestro a prescindere dai risultati a prescindere dal fatto di essere capolista va a giocarsi questa Coppa Italia con molta umiltà però per dire la sua e ci fermiamo qua. L'anno scorso come ricordava Marco venivamo da un periodo di sette sconfitte consecutive tra Euro Cup e campionato non eravamo in forma per niente avevamo due giocatori fuori per infortunio però avevamo un roster molto lungo perché avevamo comunque ancora dieci giocatori dieci tra cui Christian Burns che a Milano ha fatto ai quarti di finale un discreto mazzo se si può dire così ed è vero quello che dice Marco questa è una competizione del tutto a sé riprendendo quello che ha chiesto Paolo io ti dico questa è la mia settima Coppa Italia che seguo con la Germani e me ne ricordo una a Pesaro in cui abbiamo perso in semifinale con Milano dopo aver giocato punto a punto la mattina mi sono svegliato in hotel c'era Marco che andava a fare colazione perché lui quel giorno giocava alla finale e io no e Marco con tutta la squadra e lì ti dico mi è venuto da dire caspita guarda quanto sono stati bravi loro perché al primo anno in Serie A sono arrivati dritti per dritti direttamente in finale e questo ti dà un attimo il peso della misura della Coppa Italia Brescia il primo anno che era centrata da settima ma per sbaglio per congiunzioni astrali arrivò in semifinale a dar fastidio il secondo anno è arrivata senza favore del pronostico in finale pertanto le Coppa Italia raccontano delle cose che stanno a sé c'è stato un anno in cui a Pesaro abbiamo perso con la fortitudo che era una fortitudo indegna una squadra che non poteva deambulare secondo me in campo noi che eravamo secondi in classifica siamo usciti a perdere contro di loro questo ti dà la cifra stilistica della Coppa Italia è veramente una competizione a sé stante inutile fare pronostici ve lo dico perché c'è sempre una sorpresa quando almeno te l'aspetti perché in questo momento torno a ripetere l'abbiamo detto anche prima le prime quattro sembra che stiano giocando per continuità dei risultati soprattutto all'inizio il girone di ritorno un campionato a sé stante eppure vi assicuro che arriverà qualche risultato dalla prima giornata dalla prima della seconda giornata di Coppa Italia che ci faranno ricredere un po' su tutto questo spero non per Brescia ecco vediamo insomma godiamoci questo spettacolo a partire da mercoledì sera e fino a domenica vedremo insomma chi avrà la meglio o ricordo per chiudere il capitolo Napoli che alla ripresa del campionato dopo la parentesi per la nazionale partite ricordo con la Turchia e con Ungheria bocca al lupo naturalmente a coach Pozzecco che avrà ancora la possibilità di fare anche qualche altro esperimento non tanti esperimenti perché le partite contano questa volta Napoli tornerà in campo e affronterà Treviso una squadra che in questo momento sembra riemergere quindi un altro test molto molto importante nel cammino verso la zona playoff dei ragazzi di coach Milicic andiamo adesso al capitolo Scafati Andrea mi pare che non abbiamo nulla da aggiungere vero per quanto riguarda Napoli non c'è nulla no 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 Paolo soltanto da un punto di vista di calendario il ventunesimo turno si giocherà il weekend del 3 marzo quindi davvero tanto tempo esatto sì dopo appunto la pausa anche per la nazionale quindi molte squadre avranno anche la possibilità soprattutto quelle non impegnate in Coppa Italia per guardare un po' del roster per fare qualche aggiustamento per fare anche magari un richiamo di preparazione fisica insomma si avrà la possibilità di poter gestire molto meglio e io sono d'accordo con Marco dopo la Coppa Italia ci potrebbe essere un altro campionato perché magari Reggio Emilia inserisce il nuovo giocatore qualche altra squadra penserà a qualche altro movimento quindi potrebbe esserci veramente un rush finale una seconda parte del girone di ritorno veramente molto interessante ripeto Napoli riprenderà con la partita a casalinga contro Treviso ma di questo ne parleremo abbondantemente nelle prossime settimane adesso capitolo Scafati Andrea cosa è successo a Scafati senza Alessandro Gentile che ha questa caviglia in disordine che non gli permette di essere continuo e quindi è stato messo giustamente precauzionalmente a riposo per non creare ulteriori danni senza Blakes che è stato che è uscito dalla notazione degli stranieri insomma si è si è stata in partita per due per 25 26 minuti poi Bologna e Bologna insomma ha due squadre da poter schierare ha avuto la meglio finale 94 a 67 però direi comunque Scafati ha fatto la sua figura anche in condizioni sicuramente non ottimali no? Assolutamente sì Paolo diciamo che Alessandro Gentile già nella scorsa partita dove poi è il risultato decisivo era già con la caviglia in disordine ha giocato sul dolore e ha portato Scafati alla vittoria ovviamente facendo anche un po' di conti Bonnicioli non lo ammetterà mai però ovviamente rischiare un giocatore per te cruciale già a mezzo infortunato contro una corazzata come la Virtus uno ci pensa non due ma anche tre o quattro volte Gucce Ramondino mi correggerà se sbaglio fermo restando che la partita come dicevi tu è stata combattuta nel primo quarto però già nel secondo periodo la Virtus ha fatto vedere di essere una squadra che mal digerisce le sconfitte perché la partita col Monaco che per l'Eurolega era una partita cruciale è stata persa lottando fino all'ultimo secondo in campionato si è tornati con la mentalità per con cogliere subito due punti e amministrare poi durante i 40 restanti sì diciamo la verità coach Bonnicioli è stato anche un poco sfortunato perché ha dovuto gestire prima l'affare Logan ma adesso l'infortunio di Gentile Strelniex non sta molto bene e continua ad essere un giocatore che probabilmente anche gli gioca sul dolore comunque in una forma fisica non ottimale quindi devo dire onestamente per quanto mi riguarda Bonnicioli sta facendo molto bene in un momento sicuramente non molto fortunato per Scafati lo diciamo lo diciamo onestamente Marco la tua opinione sul campionato di Scafati? Condivido assolutamente le vostre considerazioni aggiungo al di là della figura di coach Bonnicioli proprio Scafati ha dovuto affrontare il passaggio come dire non voluto da da Pino Sacripanti a a Matteo Bonnicioli che quindi quello abbiamo sottolineato già più come dire la figura non solo all'allenatore ma al club credo sia Scafati credo sia una squadra a sua volta costruita bene con tanti giocatori di qualità e che quindi con con equilibri non facili ma non come dire ma appunto perché bisogna far convivere tanti giocatori di qualità gli infortuni non hanno aiutato eh Strelniex aveva in una nella prima parte di stagione quando è arrivato è stato era stato super a a produrre tanto in in poco e poi si è infortunato credo a dicembre e qui abbia un po' inciso su sugli equilibri senza dover neanche arrivare poi alla alla situazione di Logan che è chiaro che un grande campione che abbiamo ammirato fino a qualche settimana fa ehm perderlo in corsa poi poi incide incide su tutto e ma credo che Scafati sia una squadra che per come dire competitività del caratteriale dei suoi giocatori Strelniex Alessandro Gentile Rossato di quei primi che mi vengono in mente proprio per come interpretano anche l'ultimo arrivato che ci sta dando sotto quindi sia per 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 proprio struttura della squadra credo sia una squadra che sarà che sarà una di quelle che da attenzionare diciamo così in linguaggio poliziesco da da attenzionare dalla compitare in poi assolutamente Alberto il tuo giudizio su Scafati un minuto poi passiamo a Bonicciolli che ci deve dire qualcosa come sempre eh nel posto partita eh poi analizziamo brevemente la parte finale della prima parte della nostra trasmissione del basket italiano dai a te diciamo che Bonicciolli da ieri sera dopo la dichiarazione di tifo per la Roma mi sta meno simpatico che in passato visto che sto dall'altra sponda del del Tevere detto questo eh tutte le vostre considerazioni sono sono più che corrette io credo che Scafati tirerà fuori tutta la cazzimma che ha in queste ultime dieci giornate di campionato eh noi a Brescia ne sappiamo qualche cosa di questa caratteristica visto che l'anno scorso c'è costato il playoff all'ultima giornata e sono sicuro che anche l'ambiente del malamangano che mi è sembrato un po' scarico quando sono sceso io per Scafati Brescia possa essere un'arma in più da sfruttare quantomeno per le partite casalinghe certo è che a Scafati non ci si annoia mai visto tutto quello che è successo nell'ultimo mese e mezzo e di sicuro non è un'annata fortunata fino adesso per i giallo azzurri credo che però ci siano tutte le caratteristiche tutte le peculiarità per riuscire a rimettersi in piedi assolutamente dai posso fare una considerazione scusa Paolo sì prego prego Alberto diceva che è andato visto Napoli e Napoli non l'ha ben impressionato contro Brescia Scafati è sembrato un po' scarico contro Brescia sicuramente è venuto a Tortona e ha visto Tortona scarica contro Brescia Reggio Emilia l'ultima partita non poteva deambulare secondo me è Brescia che che ha una capacità incredibile di 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 avere un'intensità che che non è pareggiabile se non dalle squadre top del del campionato che sono Virtus Milano e Venezia credo Brescia abbia una una durezza un'intensità una cattiveria in senso tecnico sportivo che non è pareggiabile che non è pareggiabile da 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 nessuno poi possono sbaglieranno sbaglieranno una partita speriamo non in Coppa Italia per però è una squadra con cui è veramente difficile giocare perché poi quando mettono mano alla panchina entrano cinque giocatori super atletici che giocano benissimo tra parentesi che stavano insieme praticamente tutti l'anno scorso perché Massimburg Cournoux Cobbins e Achele c'erano già l'anno scorso quindi io ci vedo come dire se se tutti se tu uno se tutti vanno contro mano forse sei tu che vai contro mano ecco eh quindi se se tutti contro Brescia ti sembrano inadeguati forse è la capacità di Brescia di 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 farli sembrare così tutto giusto Marco l'unica cosa che ti dico è che io parlavo del palamangano che avevo visto non 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 della squadra in campo che eh e non era combinata benissimo con noi purtroppo e stava vivendo il dramma di Pino eh era proprio il palamangano cioè l'ambiente attorno che quando è carico insomma ti dà una bella mano eh se sto uomo a Scafati c'è ecco assolutamente poi e poi il 3 marzo dovrà essere particolarmente carico perché arriva a Venezia un brutto cliente per Scafati quindi Scafati come ha detto giustamente Giuliani la scorsa settimana ha un calendario veramente non facile eh ma anche Napoli ha un calendario alla ripresa non facile quindi dovranno ricaricare le pile poi nei dieci giorni successivi per affrontare poi dal 3 marzo questo rascio finale che giustamente sottolineava Alberto di dieci giornate molto importanti per tutti e per la fascia alta della classifica per la fascia playoff e per la fascia retrocessione ultimo ultimi momenti insieme a voi Marco eh prima prima sentiamo Matteo Bonicciolli altrimenti ci viene ci viene a prendere insieme a casa sentiamo Bonicciolli e poi torniamo ok allora rapidissimamente ehm anzitutto sono molto orgoglioso di come abbiamo reagito all'assenza di un giocatore che per noi è determinante come Alessandro Gentile che purtroppo si è girato la caviglia e dovrà star fermo qualche giorno per noi a Scafati Gentile vale come per voi Hackett Bellinelli e Cordinier tutti i tre assieme perché gioca da uno e quindi toglie pressione a in più vi rammento che avendo perso Gentile abbiamo perso anche sono come Zorzi non mi ricordo più i nomi l'americano che abbiamo preso la settimana Jerry Blakes e abbiamo dovuto mettere Streniex in evidente affanno perché non t'alleni perché stai sempre male o comunque stai spesso male quindi per noi l'assenza di Gentile ha comportato anche l'assenza di Blakes che ci dà precisione nel tiro da fuori atletismo energia e quindi sono assolutamente contento della prestazione che abbiamo fatto e credo che per tre quarti di partita quando come dicevano i padri latini the feature viribus ci sono venute meno le forze abbiamo anche offerto a un pubblico molto esigente come quello della Virtus una paracanestro più che accettabile noi adesso ho detto la squadra abbiamo ancora dieci partite non voglio fare tabelle ma io credo che con quattro barra cinque e abbiamo cinque in casa e cinque trasferta possiamo entrare nei playoff che per Scafati serve un risultato molto importante andrebbe premiare degli investimenti di un proprietario ambiziosissimo di una piazza che ci segue con grande affetto per quanto riguarda la Virtus l'avevo detto in pre partita e lo dico a maggior ragione adesso a una certa età si diventa un po' selettivi con la palacanestro nel senso che non si guarda più tutto come una volta e devo dirvi che per quello che mi riguarda da appassionato di palacanestro ancora prima che da allenatore di palacanestro professionista vedere la Virtus sia in campionato ma soprattutto in Eurolega è una gioia straordinaria perché si vede una palacanestro di condivisione giocata da eccellenti giocatori guidati da un fuoriclasse assoluto che è Luca ed è divertente ogni tanto agli allenatori di altissimo livello piace vedere le squadre con i giocatori tutti con la faccia corrucciata e pensosi invece la Virtus gioca si vede che giocano bene assieme che si divertono che condividono e quindi è stato un grande onore per noi misurarsi con una squadra di questo livello un grande onore per me misurarmi con Luca e credetemi sinceramente una grande in bocca al lupo per il finale di stagione perché questa squadra per come per il palacanestro che ha espresso dall'inizio della stagione a ora merita veramente risultati importantissimi allora abbiamo ascoltato anche Matteo Boniccioli volevo chiedere a Marco di Avellino e Caserta che mancano alla platea importante del basket tu sei avellinese conosci molto bene il basket campano l'hai vissuto anche a Salerno in maniera importante che opinione ti sei fatta insomma Caserta e Avellino Avellino con gli sforzi della del FES con questa scandone alle spalle che preme come vedi la situazione anche a Caserta dove fremono per una classifica che probabilmente non li gratifica in fondo alla binazionale Marco ti chiedo di essere velocissimo perché il tempo è il nostro nemico con grande onestà la serie B la seguo poco devo dire che come dire che le difficoltà degli ultimi anni dei club evidentemente nascono anche da da un tessuto economico che può supportare fino a un certo punto e bisogna essere bravi anche a passami il termine ad accontentarsi un po' per qualche anno e magari mettere le basi per poi farsi trovare pronti e non e non fare su e giù come come è successo negli anni su e giù intendo di 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 umore di 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 supporto economico di supporto del pubblico consolidarsi un po' assolutamente Marco allora grazie per essere stato con noi grazie a voi vogliamo presto nuovamente in corsa eh qualche panchina ti vogliamo sicuramente nuovamente abbracciare da vicino questa è la nostra la nostra che sei un caro amico una carissima persona che conosco da tempo e apprezzo da tantissimo come apprezzo tantissimo il collega Alberto Banzolo Alberto sarai sarai lì a Torino eh a commentare questa Brescia Napoli vediamo come va a finire logicamente da napoletani sai come 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 ci auguriamo possa andare però giustamente Brescia è una signora squadra vediamo un po' grazie per essere stato con noi anche Alberto Banzolo grazie grazie ragazzi saprò piacere grazie un abbraccio a tutti un abbraccio a tutte e due bella prima parte della nostra trasmissione tra un po' ce ne sarà una seconda dedicata al campionato di Serie B eh nazionale che poi oltretutto gioca due turni in questa settimana a tra poco seconda parte eh amici telespettatori del ventesimo appuntamento eh con chiacchiere da basket della quinta edizione della stessa trasmissione il il format eh di eh pianeta basket tv dedicato in particolare lo saprete alle formazioni campane più in generale naturalmente al basket nazionale seconda parte come sempre la dedichiamo al campionato di Serie B nazionale ma stasera vi do anche qualche informazione sulle altre categorie in particolare sulla B interregiale ho intenzione di riservarvi qualche piccola sorpresa con Andrea Esposito che è rimasto con noi in redazione andiamo appunto a guardare che cosa è successo in B nazionale maschile nel Gione A che naturalmente ci interessa particolarmente perché c'è la partecipazione allo stesso delle quattro rappresentanti del nostro basket del basket campano a te Andrea per i risultati di questo ventitresimo turno se non sbaglio vero? Esatto Paolo ventitresimo turno che si è giocato a cavallo tra il dieci e l'undici di febbraio che hanno visto Omegna tornare alla vittoria ed espugnare Cassino sessantacinque ottantatré così come fa nell'altro anticipo la Erons Montegatini nel derby toscano contro Fiorenzola settantatré ottantasette nelle gare domenicali c'è la vittoria netta e importante della partenica Sant'Antimo su crema ottantotto settantatré così come Rieti torna alla vittoria una vittoria che fa scalpore perché a cadere è la Libertas Livorno settantasette settante il parziale finale la Delphi e Sarellino e Spugna Piombino con carattere sessantaquattro ottantotto eh al al fil di sirena Legnano torna a vincere una partita combattuta punto a punto contro Brianza ottantaquattro ottantatré nettamente piacenza alla meglio suddesio settantasette cinquantanove così come la Gemma Montegatini fa su Salerno sessantasette cinquantacinque ultima partita in programma è stata quella tra P.L. Livorno e Caserta che ha visto i Toscani imporsi settantanove settantadue Paolo la classifica vede una situazione campana divisa a metà perché ci sono due squadre che adesso sono in zona playoff due squadre che hanno il vento in poppa che sono in ottima condizione come la partenica Sant'Antimo al quinto posto e la Delfes Avellino Sant'Antimo che è a solo due punti dalla Gemma Montegatini che nel corso delle settimane ha perso un po' il treno della Cugina e delle due Livorno come dicevi tu Avellino è a ventiquattro punti frutto di dodici vittorie e undici sconfitte mentre l'altra metà delle campane complice anche l'exploat di Rieti è in seria difficoltà perché abbiamo appunto Rieti a 16 punti poi un po' più staccate purtroppo per i campani Salerno a 9 e Caserta a 8 Eh sì allora Sant'Antimo va veramente molto molto bene conquista un meritatissimo quinto posto in solitario Avellino vince la quarta partita consecutiva e torna pienamente in zona playoff dimostra di essere una squadra che può dare fastidio a chiunque per il roster che ha mi dispiace per le difficoltà di Salerno che comunque ha integrato nel roster un giocatore importante come Agostini anche di Caserta però entrambe combattono entrambe sono vive anche se agganciare la terz'ultima e la quart'ultima posizione in questo momento sembra abbastanza complicato e difficile e questo ci dispiace notevolmente allora analizzando i momenti partendo per Sant'Antimo veramente una bella vittoria non si è giocato neanche al Palapuca che è oggetto di lavori di ammodernamento di adeguamento alle nuove normative si è giocato al Palaiacazzi di Aversa bella vittoria cinque uomini in doppia cifra Gallo e Dri sugli scudi ma molto bene anche i lunghi Camperidis e Quarisa insomma la squadra di Cocce Gandini va come un treno in corsa e dimostra di meritare ampiamente la posizione Cocco è il quinto posto stesso discorso di casi per Avellino quarta vittoria consecutiva finalmente questo roster dimostra la valenza è un roster importante quello di Avellino quindi sta andando veramente molto bene vince tranquillamente in trasferta anche qui prova è molto importante dei lunghi in particolare di Bortolin 22 punti e 12 rimbalzi ma anche Nikolic e Chinellato dicono la loro per una squadra che ripeto come roster è sicuramente credo tra le prime quattro del campionato e sicuramente una squadra che si farà valere dispiace per Salerno e per Caserta Caserta combatte fino alla fine ma purtroppo non riesce a vincere su un campo molto difficile come Livorno però Alibegovic e compagni continuano a combattere lo faranno sicuramente fino alla fine stessa cosa dica si perde la virtù Sarechi Salerno ha inserito Agostini ha combattuto certo era un po' difficile eh vincere eh però Chekovic ha dato il suo apporto Agostini otto punti in sedici minuti eh insomma si combatte anche lì a Salerno la formazione di Amato dimostra di essere viva sarà una seconda parte di stagione importante per tutte e quattro le squadre campane Andrea no? Assolutamente sì Paolo sono molto d'accordo con te e volendo fare un discorso un po' più preciso con numeri alla mano e con la classifica che in questo mano ci dà che in questo caso ci dà un aiuto abbiamo la Gemma Montecatini a ventotto punti e poi un maxigruppone di otto squadre racchiuse in sei tra virgolette miseri punti perché dalla Gemma ripetiamo quarta e Crema undicesima ci sono solo sei punti questa cosa vuol dire vuol dire che il girone tolte le prime tre che oggettivamente hanno un qualcosa in più e lo abbiamo fatto vedere durante tutta la stagione dietro c'è tantissimo equilibrio basta inanellare come hanno fatto Avellino nelle ultime settimane e la partena presenta un po' più indietro inanellare quelle prestazioni positive quelle vittorie una in fila all'altra per rivoltare completamente la stagione assolutamente adesso arrivano però due turni in questa settimana quindi subito si possono conquistare punti importanti perché si gioca sia mercoledì che tra sabato e domenica andiamo con il prossimo turno li analizziamo i due turni che appunto ci attendono in quattro giorni quasi a fare concorrenza la serie a la coppa italia insomma basket a 360 gradi si può godere quindi chi vorrà vedere la coppa italia può logicamente anche guardare un po più in giù alla binazionale con questo turno infrasettimanale molto interessante che si gioca tra mercoledì e giovedì se non vale errato e poi tra sabato e domenica si torna nuovamente sul parchetto a te esatto paolo ventiquattresimo turno che vede Avellino Desio Piacenza Legnano Erons Montecatini Piombino Salerno Crema Cassino P.L. Livorno Caserta Fiorinsuola Libertas Livorno Gemma Montecatini Rieti Sant'Antimo e Brianza Omegna beh tutte partite impegnative per le squadre campane questa Sant'Antimo che va a Rieti anche Avellino insomma ha una partita insidiosa così come Caserta e Salerno ma sono tutte insidiose le partite in questo girone non ne vedo di facili onestamente campionato molto equilibrato molto bello qualcuno dice una tre praticamente vera e propria vediamo che cosa succede poi sabato e domenica cosa succede poi con il sabato e domenica si ritorna al canonico calendario con il venticinquesimo turno che vede Omegna ospitare la Erons Montecatini De Sio P.L. Livorno Sant'Antimo Piombino Libertas Livorno Brianza Basket Giamma Montecatini Caserta Avellino Cassino Legnano Salerno Fiorinsuola Rieti e in chiusura Crema Piacenza ti dico onestamente che se Sant'Antimo e Avellino fanno altre due belle vittorie ci divertiamo veramente e poi speriamo logicamente che la situazione di Caserta e di Salerno possa migliorare sinceramente quest'ultimo posto che significa retrocessione automatica in Binter regionale brutto è brutto veramente da digerire brutto da ipotecare brutto da ipotizzare non so sinceramente cosa posso augurarmi insomma poi c'è questa questa Rieti un po' più su del caro amico Ciccio Ponticello insomma è di Roderick che so che è infortunato in questo momento lo sta giocando ultimamente questo però non ha vietato Rieti di riuscire a avere uno scalpo importante come quello di Livorno che secondo me ha un po' tagliato le gambe alla rimonta soprattutto di Caserta perché Caserta nell'ultimo mesetto mesetto e mezzo ha ritrovato quella scintilla che si era un po' persa nei primi mesi di stagione e si vede che è una squadra totalmente diversa più in fiducia però ovviamente se le altre non aiutano questa rimonta rimane sempre difficile no vabbè questa sinceramente questa questa lotta tra campane per evitare l'ultimo posto non mi piace per nulla sinceramente è una cosa che mi dispiace tantissimo vediamo che cosa succede in queste ultime giornate della stagione regolare poi ci saranno i playoff i play out vediamo insomma cosa succede speriamo che l'ultimo posto possa non essere appannaggi una squadra campana ma buttiamola lì vediamo che succede per quanto riguarda la binta regionale avevo promesso qualche notizia perché c'è da rimarcare l'ottima classifica che hanno angri e power basket salerno nel girone campano pugliese l'ottima classifica che ha il sala consiglina che è quarta nel girone campano calabrese siciliano quindi insomma ci sono anche squadre in serie binte regionale della campania che onorano il nostro basket anche la scandone avellino insomma ha una buona posizione insomma anche in binte regionale le squadre campane si fanno valere così come anche in c unica dove c'è una bella lotta al vertice quindi un campionato quello di binte regionale anche quello di c unica sempre molto vivi e di cui ogni tanto vi relazioniamo vi teniamo aggiornati anche perché ci piace parlare anche delle altre categorie direi andrea che possiamo concludere questa trasmissione abbiamo detto del del doppio turno di b nazionale nel girone a tra mercoledì e giovedì e tra sabato e domenica in bocca al lupo naturalmente le squadre campane in bocca al lupo anche le squadre campane di binte regionale e di serie c unica è tutto per quanto riguarda questo ventesimo appuntamento con chiacchiere da basket seguite naturalmente pianeta basket tv seguite le pagine su facebook su instagram dedicate naturalmente al basket campano a cura della nostra redazione ringraziamo anche luigi cocco sempre molto attivo nel salernitano nostro corrispondente da salernitano appuntamento alla prossima settimana un grazie alle televisioni che ci propongono sul digitale terrestre ripeto da questa settimana avremo anche l'occasione di poterne avere una in nazionale quando logicamente avete la possibilità di seguire la smart tv di avere una smart tv quindi ci siamo ulteriormente ingranditi chiacchiere da basket piace questo ci fa naturalmente molto molto piacere scusate il gioco di parole buon basket a tutti ciao andrea alla prossima per la ventunesima puntata tra sette giorni siamo qui alla prossima e parafrasando la tua chiosa finale da buon basket a tutti questa settimana concedimi questa perla buona coppa italia a tutti e anche buon doppio turno di binazionale dai accontentiamo ci facciamo mancare niente assolutamente come sempre grazie a tutti